ciao ragazzi qualche giorno fa ho avuto l'immenso piacere di intervistare un grande della batteria italiana sto parlando di Ellade Bandini batterista di Guccini, De André, Paolo Conte, Mina e tanti tanti altri si dice che lui abbia partecipato a più di 1500 registrazioni in ogni caso la lista delle sue collaborazioni è veramente infinita insieme abbiamo parlato di un album di De André che mi sta particolarmente a cuore si tratta di Anime Salve ultimo album di Faber pubblicato nel 1996 che vede appunto la presenza di questo grande batterista dietro ai tamburi un album scritto a quattro mani con i mano fossati e che è un vero e proprio capolavoro per le orecchie sentite cosa mi ha raccontato Ellade Bandini sigla Ella De Bandini è un piacere conoscerti buongiorno a te Federico ciao allora parliamo di Anime Salve un album di De André famosissimo l'ultimo di De André cosa significa per te quest album che cosa rappresenta rappresenta soprattutto il fatto che è l'unico album che io ho registrato in studio con voi tutti gli altri sono stati registrati sono concerti live ecco quindi è stato è l'unico album con brani originali nuovi al quale io ho partecipato mi racconti un po come si è svolto il lavoro in studio l'avete registrato a Milano se non sbaglio sì a Milano a Metropolis sì beh diciamo che ancora prima credo di essere stato forse il primo dei musicisti ad essere ovvio convocato a Milano ma in casa di Piero Milesi per ascoltare i brani che è l'arrangiatore che era l'arrangiatore si è dovuto mancare prestigio purtroppo ma musicista eccezionale mi ha chiamato mi chiamato erano già sei mesi che stavano lavorando dietro questo progetto che era iniziato con Ivano Fossati era iniziato già durante un periodo di prove noi stavamo facendo le prove mi pare a Roncofreddo per un concerto che era non so mi ricordo neanche di che anno insomma così e nel frattempo facevano le prove in un'altra sala un altro in un altro teatro per registrare questo disco ma anche lì le cose non hanno funzionato non so per quale ragioni capisco bene il carattere di sappiamo tutti qual è il carattere di Fabrizio quindi era particolarmente difficile quindi viene rinviato il lavoro e a un certo punto tutto nelle mani di Piero Milesi Piero Milesi sei mesi di 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 fatica di di prove di esperimenti di cose meravigliose già il giorno dopo però non andavano più bene quindi ero un continuo fare rifare va bene non va bene dopo sei mesi era distrutto perché lui in casa solamente con Fabrizio loro due così io ho sempre tutto un carattere molto disponibile tranquillo quindi mi ricordo che mi chiamò Milesi Piero dicendo a Erade fammi un favore vieni quassù ci sono quattro pezzi già pronti circa vieni a sentire questi brani cosa ne pensi eccetera eccetera anche per te ci tranquilli perché un orecchio nuovo fresco così un ascolto fresco magari ci tranquillizza un attimo perché sta prendendo una brutta china quella che è quella situazione quindi andai proprio a Milano di pomeriggio arrivai verso le due del pomeriggio alle 14 e c'era solamente Piero Milesi distrutto sembra che sembrava che non dormisse da non so quanti giorni anche perché se non sbaglio lavoravano di notte perché Fabrizio era un notturno sai sono quelle cose che si secondo me quando vengono le idee anche la talefanta di notte o un'idea alle quattro hai capito si prende su e si andava in studio o a casa dell'arrangiatore sino però era Piero Milesi che lavoravano Fabrizio dormiva cioè anche di giorno quando sono arrivato Fabrizio stava dormendo difatti arrivò di là dopo un'oretta arrivò Fabrizio si svegliò arrivò tutto dondolando e tutto così con la sua camminata così riconoscibilissima come sempre ci mettiamo ad ascoltare questi brani il primo fu ho visto ho visto Nino volare io quando l'ho ascoltato veramente già al primo ascolto il testo mastiche spute eccetera eccetera già quando parte così la sensazione di qua ci siamo già si sentiva che il pezzo sarebbe stato un pezzo bellissimo sicuramente non un pezzo di punta perché era molto particolare un pezzo lento e questa 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 camminata così questi timpani di batteria che poi sono stati incisi in questo modo e fu il primo brano e poi mi chiese mi chiese appunto ma cosa ne dici dico ma di col se vuoi che metta a piangere per rendere l'idea a me sembra veramente bellissimo dicono ma lui ti guardava sempre con quell'espressione capito sorprese ti piace davvero come non neanche per una conferma come se veramente fosse stupito che la cosa che le sue cose potessero piacere o se non era veramente così dice che la cosa la come come un attore dice la faceva sembrare veramente vera questa sua sorpresa mi piace tantissimo fammela sentire ancora la seconda volta logicamente mi era piaciuta ancora di più non c'era nessuna nessuna percussione incisa c'era solamente la chitarra qualche effetto sonoro così di armoni delle armonie sotto e la sua voce che di solito bastava sempre quelle basta quello fu il primo brano poi secondo brano princesa e il brano era un brano che era molto simile ad altre cose che ho sentito di fabrizio e c'era questo gru che era anche facile anche troppo facile qui mi ricordo che la partenza c'era questo questo andamento di musica pop un gru tipico della musica pop a volta uno è imbarassato un batterista quando viene chiamato per avere delle idee passesche e l'idea passesche qui non esiste perché è solamente l'idea giusta secondo me di gru che molti che molti cantautori non accettavano perché volevano delle cose che non fossero in competizione ritmicamente con con i cantanti pop lui poteva anche dire sì ma qua qua come come magari aveva detto con cresa del mare che si poteva accompagnare nello stesso modo perché qua sembra potrebbe sembrare con tutto rispetto una ritmica della pausina io direi sono mazzotti chiaramente quello che c'era sopra come testo e come melodia non era la stessa cosa quindi quando arrivò l'inciso mi disse come lo facciamo questa brano allora la risposta con favorisco con questi personaggi deve essere immediata deve essere sicura e ci vuole esperienza proprio in questa questa in queste risposte ci vuole esperienza ed è stato proprio fregando nella parte nella b nell'inciso di questa da 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 questo strumentale mi è venuto in mente immediatamente l'idea geniale di vato che vato il calloni ebbe in crescita e ma e dico qui bisogna prendere viene a rubare qualcosa che non che non deve sembrare quella cosa loro beccato gli ultimi due quarti della prima battuta e gli ultimi due quarti della seconda battuta perché cresa del mare un tempo che si si completa in due due battute due misure quindi invece di fare tutta l'idea fatto solamente le due pattughe tac pum 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 pac e questa qui dice eccezionale e lì mi sono salvato la faccia e mi sono salvato proprio in un modo molto pesa devo ringraziare altre caloni che ha avuto quelle bellissime idee una volta che ha fatto così tra sempre delle idee geniali quindi quindi anche quello è stato molto semplice poi mi fece sentire altre cose ma lì ancora non aveva a me piacevano tutti questi brani sinceramente uno addirittura era proprio anime salve di come questo qui dico ci vuole una camminata sotto proprio una ritmica che non cambia mai e tutto cambia sopra a quello che fa una ritmica e poi l'altro è stato anche tutti i titoli dolce nera anche questo è un brano che doveva essere sicuramente suonato in studio poi dopo un po per evitare di avere dei dubbi da parte loro di come aspettiamo qui ci vuole sentire anche le percussioni cosa possono fare perché le percussioni con fabrizio avevano un ruolo importantissimo e allora c'era naco quindi così è stato l'impatto è stato questo è stato nella casa di piero milesi a milano e sotto la prima prima scopo dei brani quindi poi quando siete andati in studio era già le parti di batteria erano già tutte tutte pronte sì ma il studio tutto cambia perché in studio è capito quando davvero succede che uno suona o quando suoni sperimenti senza dover registrare senza dover registrare i suoni non vengono curati nel caso esempio di ho visto nina volare è stato questo questi due timpani che erano loro che portavano il tempo così questo c'era dei rientri tra un di un timpano nell'altro lì venivano fuori i problemi e quando tocchi un tamburo perché ha una risonanza dopo non va bene quell'altro stai lì veramente delle ore a cercare di sistemare i tamburi con una casa del dolce nere è stato il pezzo dove io facevo meno batteristicamente è quello che ha richiesto più tempo addirittura alla fine mi feci portare un accordatore accordiamo tutto perché non andava mai bene niente e risuonava la stanza risuonava tutto insomma quindi e poi non andava bene l'intonazione insomma al fine ho perso più tempo a fare quel brano quei colpi di timpani gli altri brani sono stati più semplici diciamo che per in sessa è stato semplice c'era anche Pier Michelati in studio con me quindi ho avuto anche delle idee Pier Michelati perché il batterista ha delle idee ma di solito le idee vincente ce le hanno gli altri musicisti cioè non dobbiamo crederci dei dei padri eterni perché gli altri musicisti hanno in mano soprattutto il bassista in mano proprio la la nota agli accordi le armonie che cambiano tu fai un anticipo di cassa ma magari in quel momento l'anticipo non serve perché c'è in ballo un cambiamento armonico quindi magari dice Aquino invece di fare di fare un anticipo con la cassa mettiamolo in batteri capito e quindi molte cose sono state risolte proprio delle piccole delle piccole delle piccolissime cose che sono poi le cose più importanti perché vedere vedere una una casa bellissima è facile e quando vai a vedere come sono le rifiniture che dà valore alla casa qui sappiamo qui siamo all'aperto quindi saluto saluto gli amici che ci vedranno questa cosa sì siamo all'aperto dove abito io ma sono condominio intorno e altra gente sta lavorando come stiamo lavorando noi assolutamente noi però Federico ci stiamo divertendo il disco ha sicuramente sonorità influenze sudamericane balcaniche c'è l'introduzione del portoghese la lingua portoghese e poi anche il genovese che non manca mai certo tu per entrare in questo mondo in queste sonorità hai fatto degli ascolti prima ti sei lasciato influenzare da qua io io avevo Naco che eravamo fratelli praticamente io e Naco ci sentivamo tutti i giorni tutte le sere prima di dormire per anni dalla dal primo tour del novantuno fino alla registrazione ci sono tutti i giorni abbiamo avuto anche delle storie di insieme con degli amori hai capito quindi avevo Naco Naco aveva una conoscenza stilisticamente di queste cose quindi io potevo fare in questo caso potevo fare il Jeff Porcaro della situazione io facevo io ero quello che facevo la musica pop e Naco era quello che metteva queste atmosfere sudamericane le percussioni gli effetti c'erano degli specialisti in queste cose i batteristi in fondo qui questi periodi così stilisticamente doveva fare il lavoro che fa un batterista italiano io sono italiano non sono né sudamericano né cubano e né indiano i miei i miei ascolti vengono dalla musica dal rock n roll dalla musica inglese dal pop inglese e dal jazz non è possibile che vada a cercare di imparare una cosa che non è dentro di me sì mi piace studiare mi piace ascoltarla quindi lascio fare le cose a chi le conosce bene io mi sono preoccupato di altre cose e questo e questo fa funzionare il tutto perché va bene come diciamo noi a Ferrara da uova e da latte prende tutte e due allora in studio che atmosfera c'era? Fabrizio era presente? sì sempre presente era sempre presente stranamente il più preoccupato era Piero Milesi che chiamò proprio Naco all'inizio e me per tenere calmo Fabrizio alla fine i studi più preoccupato era era Piero perché Fabrizio era tranquillissimo i studi la preoccupazione di Fabrizio era più che altro i concerti live che non puoi correggere e lui non la cosa che non voleva era assolutamente deludere le persone che andavano a sentire i suoi concerti prima cosa perché mi piace pensare che da buon genovese pensavo che tutti spendevano dei soldi e dovevano avere un prodotto di grande qualità e che spendevano i soldi le stesse lire allora c'erano le lire erano uguali da Siracusa fino a Aosta quindi il concetto deve essere perfetto ed uguale sempre uguale erano perfetti ma sempre uguali tanto valeva stare a casa a ascoltare il disco perché ero uguale al disco effettivamente gli errori avrebbero fatto parte di tante cose che potrebbero succedere durante un live anche divertenti delle volte ma lui non accettava questa cosa doveva essere perfetto in studio si potrebbe rifare tutto quindi lui era tranquillissimo ma anche quando registrammo Don Raffae con Murolo il concerto del primo maggio che registrammo di notte alle 4 di notte 5 all'alba quasi un freddo della Madonna perché quindi era stata registrata la base perché noi non potevamo suonare sempre e loro cantavano sulla base noi facciamo playback ma Fabrizio e Murolo cantavano sulla base anche lì in studio lui era tranquillissimo andava bene tutto talvero è stato un problema per Murolo hai capito perché a Fabrizio non andava bene certe cose e a Murolo andava bene certe cose del napoletano di Fabrizio però in studio non ci sono stati problemi l'unico problema l'ho avuto con Dori Ghesi perché non le piaceva il groove di Dolce Nera lo trovava che era troppo largo e forse era troppo poco percussivo ecco poi ho detto dopo ci pensero a Naco di Dori perché mi sembra che il groove vada bene era uno shuffle sciaffolato così mi sembra che vada bene e Fabrizio diceva no ma così va bene era Dori Ghesi che aveva storto un po' il naso poi dopo logicamente sentito alla fine tutto funzionava ci sono delle grandi genialate in quel disco lì il cori la bravura di un Piero Milesi il genio di un Fabrizio De Andrè e il talento di tanti musicisti scelti con cura il disco è stato scritto insieme a Ivano Fossati come? il disco è stato scritto insieme a Ivano Fossati sì alcune cose sì mi pare forse non so cosa ma molte cose sono fatte di Ivano Fossati di Ivano Fossati beh altro grande canto autore ci mancherebbe tu oltre al disco hai partecipato anche ovviamente a tanti tour di Fabrizio però hai partecipato anche al tour di anime salve quindi hai portato i brani che hai registrato in studio e li hai portati live certo qual è stata la principale problematica che hai affrontato nel appunto trasportare questi brani in un contesto live? ma guarda non ce ne sono stati perché bene o male ti ripeto le difficoltà stavano nell'esecuzione di cose i chitarristi erano Michele Ascolese mi sembra passire perché Giorgio Cordini capito? mi viene a ridere per il fatto che lui era stato chiamato all'inizio perché suonava perché doveva suonare il... come si chiama il... adesso mi sta sfuggendo la parola queste cose qui ci sono tanti strumenti ci viene in mente... no, non doveva suonare la chitarra il buzucchi doveva suonare ok e che non sapeva neanche cos'era il buzucchi Fabrizio quindi mi viene da ridere per questa ragione qui erano loro due quindi erano chitarristi eccezionali alle percussioni era venuto a mancare Naco e Fabrizio voleva rinunciare alla tournée ma a un certo punto tutti, anche la stessa famiglia di Naco ha detto no, deve... anzi deve essere fatta assolutamente questo tour fu rimpiazzato da Rosario Germano che fece un lavoro eccellente io penso che nessuno meglio di lui poteva farlo perché ha preso con rispetto tutte le linee ritmiche ed è riuscito veramente con un'indipendenza alla Naco fare cose con diversi strumenti e poi aveva degli effetti, delle sequenze insomma è stato fatto non ci sono stati problemi sinceramente e poi abbiamo a disposizione del tempo per le prove facciamo le prove fatte bene i primi 3-4 giorni solamente la ritmica sempre sempre forse una settimana solo la ritmica e la seconda settimana arrivavano gli altri arrivavano Mario Arcari i cori eccetera eccetera ma la prima settimana era tutto dedicato alla ritmica quindi eravamo tranquilli e tesissimi perché sapevamo che andava bene tutto ma non andava bene niente perché doveva esserci una ragione forse per scaramazzia per dire che non andava bene ecco hai detto nell'album l'album è pieno di strumenti veramente ci sono tantissimi tantissimi strumenti live sono stati riportati tutti gli strumenti oppure avevate delle sequenze ci sono delle sequenze live ad esempio c'è una nel brano adesso non mi ricordo i titoli io faccio la fatica a ricordare i titoli ma anche di tutti i cani che ha tutto il rigore lavorato ma dove io suono a un certo punto suono un vaso no forse si comunque dove sono un vaso non mi ricordo ci guardiamo e lo aggiungi tu magari io suono un vaso e quello è un playback enorme perché il vaso era stato registrato in studio da Elio Rivali che è quello che il resto ha inciso smisurata preghiera anche lì dopo si dovrà dire qualcosa il vaso smisurata preghiera quindi io suonavo non si riusciva ad avere un suono con quel vaso che avevo trovato io non era trasparente quindi era verde e scuro e nascondeva che dentro c'era il nulla c'era solo dei fili che entravano nel nulla praticamente dei cavi e io avevo studiato la perfezione questo playback che era in sequenza invece ah si si no perché non si riusciva a tenere fuori quel a microfonare certo c'era questo tum si e poi c'erano ticum ticum degli effetti così con un vitale poi fingevo di mettermi bene il mito cioè lo mettevo faccio vedere bene infatti nei concerti Fabrizio mi guardava come dire sei proprio un figlio di una donna e si metteva a ridere ogni tanto io mi mettevo a cercare di nascondere mi faceva anche male dalle volte cioè fingevo un mucchio di cose questi colpi capito? però avevo fatto un buon playback e uscivo alzando questo vaso con orgoglio capito? una vergogna incredibile perché sapevo che e pensa che quel vaso quella cosa lì al al cleptenco quando facciamo venne premiato al cleptenco il anime salve quella sera venne in anticipo jackson brown proprio per sentire per sentire per sentire per sentire il concerto e quando uscire dal palco mi venne incontro jerson brown vestito di bianco con una moglie bellissima e mi abbracci meraviglioso ma quel vaso che hai suonato bellissimo il sound in inglese io capivo e non capivo e ho dovuto spiegargli fortunatamente delle delle balle passesche questo vaso l'ho comprato a faenza c'è la ceramica è stato in un certo modo ci abbiamo messo dentro dell'olio prima ho diventato un bucho di cose capito per per dire il suono di quel vaso lì la magia di quel vaso avevo fatto di tutto fiume saint crick delle cose con delle di batteria ma la cosa che faceva effetto era quello del vaso è come quando facevo suonavo nei concerti di Francesco Guccini che quando suonavo suonavo la batteria tutta serie di continuo facevo solamente il brano che era di vecchio e il bambino dove tiravo fuori percussione alla fine c'era un'ovazione dove non toccavo la batteria praticamente quindi concerto live c'era molto di sequenze e se uno fa attenzione al concerto io avevo proprio il problema dei tempi di far partire i click in cuffia a Rosario e a tutti a me fermarlo farlo ripartire soprattutto quando facciamo la parte dedicata alla buona novella ci sono dei punti in cui quando ho visto c'era proprio che io smetto tiro sacco poi faccio ripartire prendo le spastole insomma è un lavoro da fare da memorizzare così è stato il risultato era era è quello che è stato bellissimo qual è il ricordo che ti è rimasto più impresso il il ricordo che ti è rimasto più impresso di quel tour guarda il ricordo io ti dico che sto scrivendo da anni sono lì che sto scrivendo un'autobiografia quindi si ma è una vita questo è un'anteprima eh è un'anteprima ma no ma ci no lo sanno in tanti ok ma è già da anni che lo dico è lunghissimo quando mi hanno detto hai capito che certi grandi scrittori stanno lì dieci anni per delle cose se non di più mi sono un attimo fatto coraggio e sto continuando ma quando ho visto ad esempio Piero Angela che ha 90 anni ha scritto i miei 90 anni e una frase così e mi sono rendo conto che il mio sono arrivato a 40 anni e ho già un tomo pazzesco dico devo riguardare un attimo in tutto ho scritto sto scrivendo queste cose anche ma posso dire solamente che eh il momento che ti ricordi darà fastidio questa cosa qui che stai rifacendo ma non lo so sono cose che funzionano anche queste durante i concerti è spesso di peggio è il momento prima del concerto non il concerto il momento prima perché questo l'ho scritto anche nel libro ma lo posso dire anche qua quindi è proprio il momento in cui arrivava pomeriggio baciava tutti tranquillo poi stava in camerino tutti passava facciamo il saluto così lui saluto così perché leggeva continuava purtroppo a fumare 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 non beveva più dall'89 quindi aveva sempre la sua acqua lì sempre eh tranquillo poi venti minuti prima del concerto cominciava a diventare il Fabio D'Andrea che Mr. Hyde Dottor Jekiele capite Mr. Hyde stava cambiando hai capito fino a quando dieci minuti prima cinque minuti prima cinque dieci si sedeva una sedia di fianco al palco tra le quinte si pariò chiuso non eravamo già posizionati lui arrivava si sedeva davanti al 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 sipario lui la sigaretta con le gambe incrociate la chitarra andassi dietro i capelli i tic non so come si può dire ma come finora visto che aveva sempre sentia sempre questo rumore capito continuo di lui che tossive cercava di liberare eh la gola eccetera eccetera e in quel momento noi noi eravamo in dieci sul palco intanto eravamo non so undici con lui o forse anche di più non li ho mai contati non li ho mai contati eh ma non siamo mai stati soli come in quei momenti lì tre minuti prima di iniziare il concerto tutti concentrati sullo strumento concentrati su di lui che guardava poi alla fine partiva hai capito che si apriva il sipario e partiva con mi pare che beh questo non mi ricordo quello di primo pezzo del concerto ma poi lì cominciava la magia cominciava questa questa cosa che vedevi la gente davanti che ti rimandavano quello che lui stava trasmettendo e noi facevamo parte di questa cosa ci guardavamo ridavamo la tensione c'era sempre sapriamo che non serve che anche quel concerto non sarebbe stato il concerto del quale lui sarebbe stato soddisfatto c'era sempre quella cosa che non andava ma poi alla fine gli ho detto una cosa sinceramente gli ho detto non è dico che a un certo punto tu facevi perché sai quando fai tre mesi 88 concerti in tre mesi lui quando decideva partiva e facciamolo quasi tutti i giorni non è che tu dopo una settimana che noi abbiamo il repertorio in mano quindi il gruppo comincia a sgonfiarsi il ruolo di energia tu fai tutto sto casino per ritirare su la tensione ma lui mi ha solo fatto un sorriso e credo di avergli dato una spiegazione a questi suoi momenti capito di parliamo un attimo di didattica adesso oggi come oggi esistono veramente tantissimi metodi su cui tutti noi batteristi suoniamo impariamo ci esercitiamo però diciamo fino a un po' di tempo fa magari la didattica si svolgeva uno imparava suonando sui dischi ti metti il disco e suoni sul disco se io suono sui dischi di De André cosa imparo da batterista? ma se stai attento io come tutti quelli della mia età io ho 74 anni ho imparato sui dischi ho ascoltato i dischi ho copiato tutti i passaggi i rudimenti li ho imparati copiando i passaggi che questi grandi batteristi il film che facevano nei dischi non sapevo addirittura credo di aver imparato a fare correttamente non perfettamente i paradiddle avevo già inciso avevo già 4 o 5 brani in classifica dei dig dig questi qui quindi sapevo le cose che occorrevano diciamo che con dei dischi di Fabrizio e di quasi tutti i cantautori penso di tutti che riguarda tutti i batteristi che fanno questo tipo di lavoro che io sono quelli creativi lo siamo tutti creativi però ci sono quelli che ti permettono di mettere in pratica questa tua potenzialità per creare delle cose io posso alzare alcuni nomi di quelli di quel periodo sono i rivali Agostino Marangolo Walter Calloni ce ne sono tanti creativi Tullio De Piscopo è un creativo e tutto insieme di cose ma ce ne sono tanti non vorrei dimenticarne qualcuno ma ce ne sono lo siamo stati tutti qualcuno la canzone d'autore ti permetteva questa creatività quello che si può imparare sono le diteggiature il fatto di inventarsi delle cose di buttare giù le mani e vedere che suono viene fuori e migliorare quel suono il primo ascolto che senti è quello che ti che ti che ti sembra quello giusto devi solo trovare il modo di trovare la diteggiatura giusto di farlo girare nel modo giusto e poi nel tempo lo correggi io lo corretto io prendo come esempio Fiume a San Cricchi non ho inciso l'originale ho inciso Lele Melotti mi ricordo che mi raccontava Lele che quando andò in studio mi pare che era Oscar Prudenti produttore del disco dell'Indiano hai capito quello famoso quell'Indiano che gli disse di fare questa ritmica e Lele con la sua vocina in facetto che io non riesco a fare dice ma se vuoi fare questa cosa quindi devi chiamare la Dea Kali che c'ha sei braccia effettivamente sono dei colpi che volevano sui tom e poi c'era una continuità di Charleston che se non hai che spesso si fanno in sovraincisione perché fai dei sedicesimi sul Charleston poi fai i tom sopra in sovraincisione ma in questo caso non vogliono che sia così vogliono che devi fare in modo di quindi magari Lele lo faceva in un altro modo io ascoltando quello di Lele ho creato un mio modo di fare questo gru quindi usando la 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 diteggiatura sul Charleston con la sinistra ma poi col tempo c'era degli abbellimenti che mi sono venuti fuori proprio ascoltando i brani sentivo delle esigenze armoniche cioè quando se il brano fa tararara io sono stonatissimo quindi per prendere l'idea tararara 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 quando non canta c'è un vuoto che la prima volta va bene lasciarlo vuoto va bene lasciarlo vuoto però la seconda volta per far cambiare devi aggiungere qualcosa quindi alla fine ho aggiunto un'apertura di Charles sonibate per capire che c'è questo momento così per poi tornare nel modo più più scarno quando sulla voce non bisogna mai suonare sulla voce sempre suonare quando c'è il silenzio solamente qualcosa e poi c'era questo tararara non so se si vede ma ci sono ci sono sei c'è questo e accendi ora senti questi due secondi colpi che sono che magari non c'erano hai capito? cioè li abbellisci a secondo il tuo gusto nel tempo questo vale anche per un brano sempre dei concerti di Fabrizio che era che era dunque Jamina Jamina c'è una la ritmica è pum tac pum no tum pa tum tum ci sono dei colpi capito? pum pum tum tum pum pum mi viene da ridere non ne parliamo così in questo modo capito? però diciamo che quando c'è sotto un charleston che va in in quartine i sedicesimi queste cose qui non riesci a fare tutti questi movimenti su cioè c'è un momento molto 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 difficile è quello che fa tum tum che si incontra insomma che sono due colpi allora devi farlo solamente di sinistra sai che sei sempre libero cerchi di di avere dei riferimenti di apertura di charleston in modo che ci senti con questo qua fai solamente i levari dei sedicesimi e con questo qui ti sposti su quindi secondo me si possono imparare delle uno sticking degli esercizi di indipendenza piccole cose sono delle idee e poi possono suggerire altre idee io il mio padre disse diciamo del cuore si è dato alla fine Steve Gaetz lo sono stati tutti poi ero a Steve Gaetz perché mi sono riconosciuto molto in lui su delle cose che io facevo anche prima non come faceva lui chiaramente ma anche perché non le faceva mai fare avevo delle idee negli anni settanta così ma si dice questa qui però mi sembra che sia perché non fai e dovevi rifare quella stessa cosa che funzionava in tutti i dischi quando ho sentito lui ha detto eccolo qui quindi il copiare il suo sticking le sue cose senza doverle leggere ma solamente ascoltandole queste cose qui mi ha aiutato a essere a avere una certa personalità anche se purtroppo si sentirà sempre lo stile di Steve Gaetz bene o male questa è una domanda difficile tu che hai conosciuto Fabrizio secondo te cosa scriverebbe oggi del mondo che stiamo vivendo? ma io credo che sia più facile dare la risposta cosa penserebbe la gente oggi dopo anni che mancano dei personaggi delle persone così così importanti delle 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 una voce così forte potente decisa pensata anche dire non così buttata pensata a vedere delle cose perché quando lui ha parlato dei rom si è preoccupato di sapere la storia dei rom perché presentarsi e dire parlare di zingari capito? a un pubblico allora è stato facile perché ancora non era successo questo questo fatto di migranti eccetera eccetera di queste dopo vent'anni più di vent'anni che manca lui e dopo dieci anni che non che non c'è Francesco non fa più Guccini non fa più niente praticamente non so come accetterebbe la gente non so se loro non so se loro si sentirebbero di scrivere qualcosa sapendo che non avrebbero ascoltati perché la cosa bisogna 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 la quotidianità è importante vent'anni che passano senza sentire e lasciare che altri prendono il posto hai capito? occupino certe in questo caso diciamo piattaforme così perché sai abbiamo lasciato libero con la storia delle scuole della didattica il jazz la musica vera pop abbiamo lasciato libero questo questo spazio questo questo spazio che ha permesso questo qui di entrare altre persone impreparate e di conquistarselo e oggi quello che abbiamo in Italia è il risultato ragazzi che seguono un genere che ha niente a che fare con la musica può piacere anche a me il rap quando era partito piaceva anche a me io sono un grande fan ero di Eminent per dirti ma è un altro tipo di storia questa qui c'è un'altra cultura dietro questa qui invece è solamente una moda la nostra una moda che oltretutto c'è una moda di di trattuaggi addosso che non potrai mai più toglierti da addosso se non ti stracci ci sono delle leggi che dicevano forse una volta non potrai mai fare qualcosa che non puoi una volta togliere cioè che non puoi che ti resterà per sempre in questo caso delle mode che poi un giorno se cambia tutto saranno fuori moda e avrà dei grandi problemi Francesco Fabrizio oggi probabilmente sarebbe fuori moda non sarebbe neanche ascoltato non avrebbe neanche più voglia forse di fare di scrivere le cose ci sono le cose che ha detto ci sono dei messaggi che sono molto attuali ci sono ma io parlo qui parlo di Francesco ma poi chi vedrà che sono appassionati di Guccini si incasseranno anche il palestruo di Francesco di Guccini qui stiamo parlando di anime salve ragazzi quindi Guccini sarà un'altra volta però loro sono persone che hanno detto delle cose che sono di un'attualità basta scrivere la realtà che è sempre attuale e non cambia mai abbiamo avuto un periodo di ci siamo stati in casa per tre mesi ci sembrava che il mondo che tutti avessimo imparato qualcosa di importante non è stato così quando siamo usciti la gente è più incassata di prima la gente guida la macchina peggio di prima la gente è convinta di essere immortale più di prima qui non mi nascondo quel tipo che si chiama Trump e fa la sfilata con la macchina salendoci alla maschina dicendo che il Covid-19 è una cazzata eccetera eccetera può anche essere che sia una cazzata però è sempre meglio come diceva Nile che si stava dalla parte del fulmentone capito? quando sappiamo saremo sicuri va bene in questo caso non è meglio vivere un giorno da leone e cent'anni da pecora è meglio vivere cent'anni da leoni e tre mesi da pecora assolutamente d'accordo bravo ellade oggi tu che musica ascolti ti sentiresti di menzionare qualche artista che secondo te è valido guarda quando ascolto qualcosa dico che devo suonare quelle cose lì io ascolto i Rolling Stone e dico accidenti Charlie Wolf senti qua trovo sempre una scusa per dirmi che Charlie Wolf è fortissimo anche se per me è fortissimo però dico sempre se ho dei dubbi da volte cerco di vedere la parte più bella sua ascolto jazz e dico beh quando suono jazz faccio concerti dicono che va bene devo suonare jazz devo approfondire di più il jazz poi faccio una serata capito di musica pop così ho di soul eccetera eccetera con con brani che vanno già James Brown Ayrton Denfire John Mayer così dico eh no questo qui è la mia musica e poi ascolto la musica suonata mi piace tutto e poi ascolto ascolto le sinfonie di di Beethoven ascolto queste cose dico madonna mia che peccato non aver studiato queste cose che cosa non faccio più in tempo poi leggo i libri dico accidenti devo scrivere devo leggere di più mi piace tutto quello che so che che mi sembra che abbia un'importanza incredibile non può piacermi una cosa sola e la de per finire una parola per definire anime salve beh anime salve una parola sarebbe quella veramente mi piacerebbe un augurio per quando finirà questa cosa che finirà per quando finirà e saremo e quello sarà e l'augurio che ci ha fatto Fabrizio quando ha scritto e saremo tutte anime salve grazie a te grazie a te grazie a te grazie a te e ciao a tutti grazie a te grazie a te dolce nere alla fine verso le sette di sera tirano le otto tirano fuori anime salve e aveva fatto piero milesi aveva fatto una una demo con sotto delle sequenze batterie insomma praticamente cambiava battuta ogni battuta cambiava tempo coppie di cassa diversi era una cosa impossibile da suonare anche da leggere diciamo così il giorno dopo avevo un concerto con francesco cucin dovevo partire presso la mattina e dico guarda non ce l'ha fatto sicuramente mi roggio messo in testa che non volevo fare quel brano lì fortunatamente è arrivato Elio Rivali che con la sua esperienza ha detto scusate troviamo un gru che gira sempre allo stesso modo non stiamo lì a rifare la batteria come piero non facciamolo come l'hai scritta come l'hai scritta tu perché è troppo difficile così difatti è molto meglio di come la sonata Elio grazie Elio grande batterista